Dobbiamo lavorare, dobbiamo andare avanti, abbiamo quattro partite e dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo. Questa è la classifica quando mancano quattro turni al termine del campionato di Serie C. Questa è la situazione allineata alla 34esima giornata che vede il Cerignola in undicesima posizione a meno uno dal Foggia e dal decimo posto, l'ultimo utile per accedere ai play-off. Gli Ofantini, alla luce dello scontro diretto in programma alla penultima giornata contro i rossoneri, sono artefici del proprio destino. Non serve, almeno per il momento, dare uno sguardo ai risultati delle rivali. Quattro partite ancora da giocare dunque. Domenica c'è la quarta gara della gestione di Giuseppe Raffaele dopo la sconfitta di Catania all'Esordio, la vittoria interna con il Potenza e il pari senza reti di sabato scorso contro la Turri San Monterisi. Un'eventuale vittoria contro i campani avrebbe riportato il Cerignola in zona play-off. Domenica, con fisco di inizio previsto alle 20.45, gli Ofantini giocheranno invece al Donato Curcio il derby a Pudolucano contro un Picerno in affanno. Una sola affermazione nelle ultime nove per il collettivo di Emilio Longo, sempre sconfitto nelle ultime tre partite. Il Cerignola comunque deve fare qualcosa in più rispetto allo 0-0 contro la Turris. Prepareremo la prossima partita per cercare assolutamente di fare un'altra prestazione decisamente importante perché quando tu riesci a fare i tre punti è normale che hai una visione diversa della classifica. In questo caso non avendolo fatto devi cercare anche di guardare il positivo perché con una classifica così corta è così, di avere fatto secondo me una prestazione robusta e dove io ho visto determinate situazioni che ci permetteranno di lavorare e di migliorare ancora in queste quattro partite. Quindi questo primo scorcio al di là dei risultati lo ritengo positivo perché in queste tre partite la squadra è diva. Salvo claborosi colpi di scena, lo dice la classifica, sino a Latina sono tutte dentro, restano a disposizione dunque altri due posti per accedere ai play-off. In lotta, oltre al Cerignola, anche Crotone, Foggia, Sorrento, Potenza e Messina. La squadra di Raffaele, inutile nasconderlo, si gioca molto a Picerno, poi affronterà nell'ordine Virtus Francavilla in casa, Foggia in trasferta e Giuliano l'ultima giornata davanti al pubblico del Monterinsi e il rush finale sta per partire.